e lo so voglio presentarvelo perché lui non è potuto essere qui con noi in questa fascia oraria c'ha la radio c'ha la diretta però ha deciso di salutarvi con questa clip guardate un po hola ragazzi benvenuti questa è radio ibiza in station un bacio da giampiero ciao dunque siete nel gogo time intanto saluto marcello il mitico marcello tra le persone più brave ed umili al mondo non lo dico perché vorrei leccare ma è così dunque questo è lo studio rosso del gogo time da cui ogni pomeriggio trasmetto dalle 3 alle 6 lo sapete in questo istante sto trasmettendo ecco la motivazione per la quale non posso essere con voi però vi saluto tutti piacere di conoscervi giampiero dunque vi presento velocemente lo studio da cui trasmetto ogni pomeriggio qui ci sono gli sms centinaia che ne arrivano ogni pomeriggio qui c'è la classica scaletta da cui noi attingiamo i titoli e ci dirigono un po attraverso questa scaletta con i tempi tutto va arrivata voi sapete che radio ibiza insomma passando densa martella con i tempi bisogna rientrare in alcuni perché la cosa più importante di radio ibiza è la musica piuttosto che stronzate che diciamo noi oddio fino a un certo punto dunque tra l'altro io vorrei con il permesso di marcello parlare anche di ciò che secondo me non va e che predico in radio ogni pomeriggio la tendenza famosa ragazzi far tendenza non significa acquistare il capo che hanno tutti che costa una cifra che magari uno può neanche permettersi fare tendenza significa a modo di vedere che mi riguarda fare tendenza significa essere se stessi bisogna sempre essere se stessi una donna parlo agli uomini questo momento ti deve apprezzare per quello che sei non per quello che tu hai addosso che indossi piuttosto che il telefonino all'ultimo grido almeno è questo che vado predicando nel gogo time ogni pomeriggio lo predico sempre e per la cortesia per la cortesia immensa che dovete farmi non fate tendenza in maniera sbagliata come tutti credono e cercano di farvi credere che si faccia tendenza cioè ripeto acquistando le cose costose portando le cose all'ultimo grido fare tendenza significa semplicemente essere se stessi e divertirsi con le cose semplici quindi non andare a sballarsi come fanno in tanti sapete che insomma uno si ammazza la vita e basta ma uno ci si diverte con gli amici come faccio io da una vita io ho pensato lo dico veramente ma non perché chi mi conosce lo sa non ho mai fumato una semplice sigaretta perché io ho avuto una nonna come tutor mai avuto genitore in vita mia purtroppo una nonna che mi ha sempre inculcato le stesse idee mi ha fatto capire da piccolo 14 15 anni che fumare era sbagliato tanti anni fa non vi dico di quanti anni fa altrimenti poi scoprireste la mia età quindi non lo dico più però essere se stessi farsi apprezzare per quelli che sei nella vita l'umiltà è la prima cosa io ringrazio marcello mi raccomando ragazzi fate i bravi radio bizzare in station 3 sede del pomeriggio giampiero gogo time da questo studio vi martellano il pomeriggio grazie anche giuseppe il produttore del programma che mi ha invitato a stare con voi lì però insomma sono qui magari per la prossima un bacio a tutti voi di star school tv un bacio da giampiero radio bizzare seguitemi alle tre ogni tanto se viva radio bizzare in in finale adesso un po di ritmo ciao